lo sport dell'arrampicata torna ad essere protagonista o sportivi e è tornato a trovarci luca malosti come è stato questo ritorno l'agonismo è stato difficile difficile perché comunque arrivavo da mesi di inattività a livello di gare se le solo appunto allenamenti durante la settimana anche se ho finito la stagione tempo una settimana due di riposo per subito ricominciato con gli allenamenti per non perdere il vizio esattamente e l'appuntamento con lui e per martedì 7 maggio alle ore 21 su un tv web